Un incontro per esprimere gratitudine e riconoscenze, per dire grazie a una persona amica che sempre più avvertiamo come un maestro. Così Monsignor Ivano Valagussa, vicario episcopale per la formazione permanente del clero, ha aperto a Vimercate, la città natale di Don Moioli, il convegno a lui dedicato in occasione del quarantesimo della prematura scomparsa di questo importante teologo. Questo ricordo a 40 anni dalla morte di Don Giovanni Moioli si deve all'iniziativa della formazione permanente del clero. Ecco, qual è l'insegnamento di un teologo come Don Moioli per i sacerdoti di oggi e per la loro formazione? L'insegnamento è certamente ricchissimo, a noi interessa soprattutto comunque mettere in evidenza come questo sacerdote della diocese di Milano, oltre ad avere una profonda e anche ricchissima riflessione teologica, di fatto è stato un testimone. Ecco, ha vissuto comunque questo suo impegno di approfondimento teologico, però dentro una profonda spiritualità che poi ha saputo trasmettere anche in una riflessione teologica, che non va dispersa, va in qualche modo recuperata, soprattutto dentro questi cambiamenti che stiamo vivendo, in ordine soprattutto alla spiritualità anche del presbitero diocesano, di cui Moioli certamente ci ha regalato pagine molto importanti e preziose. Ricordando l'uscita proprio in questi giorni dell'undicesimo volume dell'Opera Omnia di Don Giovanni Moioli, Monsignor Claudio Stercal, che insegna anche lui teologia spirituale così come insegnava Moioli, ne ha ricordato la figura, indicando la questione della centralità di Cristo nella vita come un tema assolutamente suo, onnipresente e formidabile, una strada su cui verrebbe la pena fare qualche passo in più anche nella pastorale, ha sottolineato. Essendo io giovane e docente alla facoltà teologica, mi ero offerto per venirlo a prendere o riportare, quando faceva lezione insegnavamo la stessa disciplina, lui mi stava introducendo. E in quei viaggi in macchina grandi tratti di umanità, per esempio il legame con la sua famiglia, il ricordo dei sacerdoti e anche da punto di vista teologico ricordo una battuta che mi è rimasta in mente dove disse forse noi nella nostra teologia abbiamo dimenticato il corpo e lo disse da malato, quindi capiva che anche nella riflessione cristiana e teologica la dimensione corporea nel bene ma anche nel momento della fatica è essenziale. Poi l'intervento di Don Guglielmo Cazzulani della diocesi di Lodi, presbitero, che ha studiato la figura e il pensiero di Don Moioli, pur avendolo mai conosciuto, per la sua tesi di dottorato all'Università Gregoriana. Don Giovanni Moioli ha avuto un pensiero che si è steso praticamente su grandi pezzi della teologia. Il focus è stato un po' ragionare su quali immagini di chiesa ha avuto Don Giovanni Moioli e potremmo rappresentarle in due grandi immagini. La prima, non si può entrare nella chiesa se non accettando una piccolezza, per cui solamente se si è fratelli, se si passa per la porta stretta della piccolezza evangelica, allora ci si può incrociare con gli altri. Non c'è posto nella chiesa per atteggiamenti di supponenza nei confronti dell'altro, questo è veramente il peccato imperdonabile quando si entra in una chiesa, per cui è una chiesa di persone che non possono vivere se non con il fratello. Anche quando il fratello fosse faticoso o fastidioso, rimane sempre un fratello, per cui non si può creare scismi con nessuno, perché sarebbero veramente tracciare un confine che non deve essere accettato. In questa chiesa, che è una chiesa dei fratelli, si mantiene però una diversità e Don Giovanni Moglioli è molto riflettuto anche su questo aspetto, per cui non è una comunità indestinta dove c'è una ideologia che parifica tutti quanti, ma dove c'è qualcuno che ha un dovere istituzionale anche, per cui c'è qualcuno che si fa carico di un'esperienza istituzionale e dall'altra parte anche qualcuno che mantiene tutta la giovinezza, la profezia dello spirito. Infine Don Cristiano Passoni, anche gli teologi che ebbe Moglioli come insegnante, si è soffermato sul rapporto tra riconciliazione e vita spirituale attorno al quarto sacramento. Credo che la sua proposta aiuta moltissimo anche questo tempo, soprattutto credo in riferimento almeno a due aspetti essenziali. Il primo è il tema della fede, appunto, che vuol dire come io posso conoscere me stesso, nella verità di me stesso e quindi come posso conoscermi in Dio. Questo è un primo tratto importante. In secondo rispetto al riferimento ecclesiale, perché il sacramento della confessione, della riconciliazione, permette ciascun uomo, ciascuna donna di essere riammesso e di riconoscere quella grandezza che è il mistero del battesimo, che è il definitivo della vita di Dio per noi. A conclusione del convegno, la celebrazione eucaristica, presieduta dal vicario generale Monsignor Franconesi, nella cappella interna all'Istituto delle Suore Canossiane di Vimercate. Grazie. Grazie a tutti.